Un altro passo in avanti per i lavori alla scuola primaria Lola di Stefano di Sulmona. Con determina dirigenziale, numero 390 del 4 marzo, firmata da segretario generale Nunzia Buccilli e pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona, è stata nominata la commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola primaria Lola di Stefano. Fanno parte della commissione il dirigente del settore Amedeo D'Aurelio, l'ingegnere Pasquale Diorio, l'ingegnere Marco Pasqualini. Sono sei le imprese in corsa per l'aggiudicazione dell'appalto. Si tratta dell'ATI Consorzio Appalti, dell'Omega Impianti SRL, dell'ATI Salvatore e Dimeo Costruzioni, CS Edilizia, Cingoli Nicola e Figlio e Zappa Benedetto. I lavori di ristrutturazione hanno un importo a base d'asta di 1.642.729 euro, inclusi oltre 67.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da giudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara era stata sospesa nei mesi scorsi per alcune osservazioni avanzare dal lancio e poi riaperta. Si comincia a muovere qualcosa sul fronte dell'edilizia scolastica, anche se il tempo perso e passato non lascia il sorriso sul volto degli studenti piccoli e grandi. Al momento si sa che procedono i lavori alla scuola primaria Masciangeli, alla media Capograssi, mentre per l'abbattimento della radice bisognerà aspettare l'arrivo della primavera. Resta il nodo leggenio civile per la scuola media Serafini, anche se la battaglia più grande si gioca sul liceo classico video, con il parere negativo annunciato dalla sovrintendenza ma ancora messo nero su bianco. Il prossimo 6 aprile saranno celebrati, per modo di dire, gli 11 anni della chiusura, uno scandalo tutto italiano e sulmonese. Non se la passa meglio il Denino Morandi di Sulmona, chiuso dal 2014, in attesa della gara per un solo lotto dell'edificio. Insomma, chi ieri ironizzava sulle scuole chiuse di Sulmona aveva ragione.